I carabinieri di Fano hanno arrestato quattro persone residenti tra Mondolfo e Trecastelli. Si tratta di tre italiani e un albanese. A loro carico l'accusa è di detenzione e spaccio di droga. Nella prima operazione dei carabinieri a finire in manette sono stati due mondolfesi di 24 e 20 anni. Entrambi sono stati bloccati dai militari a bordo di una Renault Clio al termine di un inseguimento fino al centro abitato di Marotta. Erano stati sorpresi a cedere una dose di cocaina a un giovane tossicodipendente del posto. Il 24enne aveva con sé altre dosi pronti per lo spaccio e un cospicuo quantitativo di denaro. Gli altri due arresti sono il frutto di un attento monitoraggio da parte dei militari di Fano e Marotta nei pressi di un'abitazione di un albanese di 33 anni a Trecastelli. L'operazione in questo caso è scattata quando dall'appartamento è sceso un 45enne di Marotta. I carabinieri, anche in questo caso, dopo aver tentato inutilmente di fermarlo, hanno dovuto inseguirlo in auto fino al centro di Marotta prima di ammanettarlo. Durante la fuga, a bordo di una Fiat Punto, l'uomo ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 5 grammi di cocaina, gettandolo dal finestrino. Nel corso di due perquisizioni domiciliari sono spuntati fuori altri 150 grammi di cocaina, 5.000 euro in contanti, assegni e copia di bonifici bancari per oltre 10.000 euro a favore dell'albanese, che visto la gravità dei fatti, è l'unico che la procura di Ancona ha deciso di tenere in carcere.